ah 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 vieni vieni dillo te vieni vieni dillo te ne dillo e allora dislo voi certamente dirlo voi e lui e lui ditelo parla piano se no dopo e tutto mosso Ditelo é, che mosso? se Guerra ve la mossa ci fa così ma ora c'è la voce mossa si va in giro per l'italia a domandare le cose come si dice da voi come si dice da voi come si dice da noi vogliate o me rispondete non è ancora partita non sono più si racconta un attimino che funziona non è che tutti ci seguono milioni la settimana sono tu a seguire la trasmissione vado pronto 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 sono pronto 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 che ha bisogno di qualcosa voi siete quelli della trasmissione ditelo voi si ha riconosciuto si si siete proprio voi lei è quello più alto o quello più basso io sono quello più alto oh Fioraccio ora sempre io ho cambiato la cucina per non farmi riconoscere sono Nello da Montepiano vado a piano Nello Nello da Montepiano che lavora con la mano com'è bello lei grazie Nello la posso dire anch'io? lo dico? mi accompagna? dove? arrivederci signori ditelo voi un po' tempo andò a fare la pipì io non mi rispondo vai col filmato ci vediamo dopo è la buco grazie a tutti grazie a tutti io ieri sera qui a Lucca fuori le mura sentite no no sentite io non saprei che fare ho detto mi voglio smagare un pochino e ho visto una macchina e io ho detto che stanno facendo quei due là? si vedono di notte lavoravano di notte brava però l'ho vista azuccata azuccata appiccicata ho detto ma che stanno facendo quei due? si stanno abbracciando si stanno abbracciando si stanno abbracciando oppure un po' di più? ci metto un po' di peperucce? il loro interesse si vedono che andrò l'interesse abbiamo finito o no? si come no non lo so perché ieri gli ho detto avete finito o no? loro mi hanno detto no stiamo facendo di più che stavano facendo di più che il loro interesse? stavano? dicete di che di? sessuale stavano facendo la sessuale capite? grazie Maria Maria dalla Puglia e tutto ciao ciao secondo lei che cosa facevano? flanella non lo so flanella è un po' brava è leggerino brava ma più pesante facevano glielo ho fatto quello che ha pensato quello quello lo dica lo dica un po' più sdolcinato io sono venuto non fate così in macchina a dondo ragione a dondolare footy 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 è simile all'italiano non si dice che significa da voi da me lo so preci footy l'italiano significa footy non so carne carne? footy footy il gesto è sempre questo si 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 pompa pompa grazie costantino vai sulla bordo cosa ho mai solo grazie signor il suo lavoro è bellissimo quando un uomo e una donna sono dentro fa nessun lavoro nessun lavoro e pigliano lo scammello lo dice pigliano lo scammello bello questo ci sa questo è favoloso si può dire un pochino accennate a che cosa che faceva? che faceva? si può dire qualcosina 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 lucia francesca che facevano? diversi diversi li facevano diversi li facevano diversi sentiamo diversi no no quelli molto belli però se passa un'amica tu guardi guarda le due sono lì quelli due fanno che fanno? diversi come si dice a Luca? diversi quello no 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 quello che avevi è stato prima facciamo tutti diversi 109 battute al minuto la chiave per capire questo genere di cose non mi annoio perché sono due perché quei due in macchina non si annoiano 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 fanno diversi 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 eh come fanno? fanno da te facciamo tutti diversi sono una grande tribù facciamo tutti diversi facciamo tutti diversi siamo una grande tribù uh 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 eh? l'hai visto? da te senza niente da dire ma con in mano eh ditelo a voi che sei lunaticà facciamo tutti diversi ma sta per favore sono altri versi ma gravi mio che volevi diversi eh eh facciamo tutti diversi lo dicono loro lo dicono loro ci penso io pronto? pronto? pronti che? bo 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 paura bo 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 signora si fa una prezzambranina ma poi 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 qui mi fanno un capo così al livorno bo bo paura signora si? si sente? come no come va a prendere sembranina è piaciuto il programma? è baffotto cagare bo 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 dito da voi lo direi a lei no no mi potete scancellare per favore bo 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 che senso lo dobbiamo scancellare? è che mi fanno un capo così qua bo bo no no non lo possiamo scancellare perché proprio dovranno avanti bo 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 bene signori bene signori ci vediamo alla prossima puntata ciao grazie è stato un piacere alla prossima grazie 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 I was born without a body I got nothing but scars But I always love